Informatevi, cercate di capire quello che sta succedendo, perché una volta che questa parte non la ferma più nessuno. Esistono delle questioni che sono evidenti, la nostra città è appesantita da un traffico di interso, ci sono delle strutture che potrebbero in prospettiva non essere più adeguate e quindi noi ci dobbiamo porre il problema di come immaginare il nostro futuro, vorrebbe dire e contarci delle palle, immaginare da qua a 10 anni o da qua a 15 anni un futuro senza automobili. Partendo da questa situazione complessa hanno pensato in anni anche lontani con un crescendo di proposte di risolvere il problema con questa gronda. A questo progetto sono state fatte una serie di osservazioni, prima dalla regione Liguria e poi dal Ministero dell'Ambiente e queste osservazioni sono osservazioni pesanti che riguardano proprio l'impatto ambientale dell'opera e sono tutte osservazioni alle quali la società proponente dovrà rispondere, dopodiché si avvierà la valutazione di impatto ambientale. Oltre al problema che riguarda le acque, oltre al problema che riguarda le gallerie, c'è un altro aspetto che riguarda una idea più generale di progetti possibili per affrontare i problemi della nostra città e del nostro territorio, effettuare una comparazione tra le principali alternative progettuali già considerate nel dibattito pubblico, compresa l'alternativa zero, perché nel dibattito pubblico l'alternativa zero non è stata considerata. La lettera del Ministero dell'Ambiente invece rilancia. Il mio impegno è quello di seguire con attenzione questo processo e vedere cosa viene risposto alle 36 osservazioni, seguire con attenzione la valutazione di impatto ambientale, considerare la fattibilità di progetti diversi, gronda e opzione zero, quindi fare una riflessione sulla prospettiva. Non si dicono solo dei no, ma si danno delle prospettive, per cui noi abbiamo il problema di immaginare un futuro per questa città che non sia un futuro bloccato, dove i giovani trovino dei posti di lavoro e questa è la sfida. Trovino dei posti di lavoro in un quadro di compatibilità ambientale. Quindi è importante l'ascolto, ma è anche importante la fase di costruzione di un progetto e questo sarà il mio impegno. Vi ringrazio.